Fiora Sofia La finale prima, seconda, Giorda Francesca, Caposella Francesca Sì Vincere, voce e idee Ciutatami, Keller, Fiora Sofia Continua Martina, sotto il Maki Kombi più veloce però, perché sei andata lentissima Si preparano, condizioni a vincere giù di Barbara Chiusa Martina, buono così, sopra e chiudi, buono così Ecco, sì, sì Martina, continua così che sei attivissima, dai Credici, credici, si fa Vi veloce Martina, veloce, devi entrare Cioè, veloce però Più convinta ancora, dai Veloce Sì Lavora, lavora Lavora, lavora Un buon lavoro, dai Martina, non si molla niente, non si molla niente, dai Sì Sì Vai, lavora, continua, continua Vai, vai Martina, così, non si molla niente, dai Veloce Gira tutto, gira, 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 gira Martina, sei in vantaggio, zero rischi adesso, 30 secondi da mantenere Muoviti Lascia che venga lei Martina, 17 Devi solo mantenere Nessuna fretta, dai Nessuna pressione, mantieni Sempre la manica giubbola, non farla salire Sì, sì, subito, subito la manica Non farti salire comunque Lavora, lavora, lavora Vai, vai Martina, sette Sette secondi Mantieni così, dai Chiudi e ti la chiusa Buono Grazie